Benvenuti a questa edizione del nostro giornale gentili telespettatori in primo piano la cronaca nera sparatoria nella notte a Taranto indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra mobile della questura di Taranto per identificare i responsabili di una sparatoria che è avvenuta la scorsa notte in piazza Marconi nei pressi della sala giochi Saturn già presa di mira nei mesi scorsi e sequestrata dalla polizia alcuni colpi di pistola sono stati sparati poco dopo la mezzanotte probabilmente da un auto senza feri nessuno i proiettili hanno però danneggiato alcune vetture in sosta gli esperti della polizia scientifica hanno eseguito i rilievi tecnici hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona per cercare di individuare i responsabili per strada sono stati recuperati sette bossoli di pistola indagini a 360 gradi da parte degli agenti della questura di Taranto si indaga però soprattutto nell'ambito dello spaccio di stupefacenti la sparatoria potrebbe essere maturata nell'ambito di contrasti sorti per il controllo del territorio nel fiorente mercato dello spaccio di droga e torniamo a parlare della grave crisi del settore mitilicolo come noto nei giorni scorsi già i mitilicoltori hanno denunciato la grave crisi che sta attraversando il settore a causa del caldo persistente delle scorse settimane la produzione è andata quasi totalmente perduta questa mattina a palazzo di città tavolo tecnico coordinato dal sindaco stefano sentiamo vicenda mitilicoltura grave crisi del settore vertice a palazzo di città il sindaco ha riunito il tavolo di confronto che cosa sta emergendo ci sono possibili soluzioni per venire incontro alla grave situazione che state vivendo allora noi veramente siamo un pochino scoraggiati perché fino a ieri non eravamo considerati non eravamo nessuno per gli amministratori e per altri enti oggi ci siamo fatti sentire abbiamo avuto finalmente l'incontro con lo sindaco e con la giunta che ci hanno proposto alcune possibilità di agevolazione per quanto riguarda sia il settore abusivismo sia il settore piano delle coste sia per il settore dello sbarco e sia per quanto riguarda anche delle piccole cose piattaforme quant'altro quindi oggi come oggi il sindaco pare che sia sia con la giunta sia messa a disposizione per poterci venire in grado ma non solo nel frattempo il sindaco ha proposto di darci alle famiglie dei mitricoltori un sussidio subito quindi per dare un sussidio giusto per allevare un po il dolore però il dolore grande rimane perché questi mitricoltori tutti la categoria intera hanno difficoltà adesso che non possono andare più a mare perché non c'è più niente non possono non sanno cosa fare e quindi è urgente noi siamo chiedendo adesso un tavolo tecnico con la regione dove discuteremo di fare interventi su questa categoria ma non solo io ho fatto una proposta per prevenire l'anno prossimo di quello di chiedere eh le specchie d'acqua in mare grande per quattro mesi e usarli come deposito però questo gli ho chiesto e vista la situazione di gravità economica che è la categoria sta subendo perché di chiederlo in comodato di uso gratuito solo per quattro mesi in modo tale che se dovesse ripetersi di nuovo una calamità di questo tipo abbiamo la possibilità di poter salvare la merce non possiamo e non dobbiamo lasciare soli i pescatori dobbiamo batterci perché venga loro riconosciuto lo stato di calamità naturale dobbiamo lottare al loro fianco per difendere il nostro made in taranto in sardegna in particolare ad olbia così come è venuto tempo fa ad orbetello il sindaco si è attivato per chiedere alla regione lo stato di calamità naturale ed è questo che chiede l'associazione made in taranto all'amministrazione comunale di taranto in merito all'avvertenza del comparto mitilicolo ora parliamo di politica il partito socialista lascia la mazzoranza a palazzo di città e di ieri la fuoriuscita dai banchi della maggioranza del consigliere comunale cosimo gigante che è passato appunto all'opposizione il partito socialista bacchetta il governo cittadino sentite ufficializzata ieri in consiglio comunale la fuoriuscita dalla maggioranza del consigliere comunale del partito socialista cosimo gigante il vostro è un giudizio totalmente negativo nei confronti dell'amministrazione comunale in carica si in effetti anche perché il nostro consigliere gigante eravamo presente una delegazione abbastanza sostenuta per dargli la nostra ispirazione al consigliere ha evidenziato quali sono i punti il primo punto è che un consigliere di un partito politico che è quel del psi che non può esprimere tutto il suo modo di lavorare all'interno di un consenso è un fatto estremamente negativo rimanere lì per riscaldare le sedi non serve a nessuno allo stesso tempo noi diciamo che il partito socialista aveva più volte con una delegazione del comitato cittadino sollecitare il sindaco in un modo diverso di gestire la cosa pubblica non è possibile che questo sindaco attarano questo è un giudizio del segretario ma anche di molti di noi da quando lui è sindaco ha fatto dormire questa città gigante la goccia che ha fatto traboccare il vaso l'esonero dell'assessore cisberto zaccheo dalla giunta stefano no assolutamente no l'avrei fatto sette mesi fa abbiamo condiviso ancora in maggioranza per altri sette mesi naturalmente l'inefficienza di questa giunta e dell'amministrazione comunale ha fatto sì che io prendessi una decisione insieme al partito socialista perché rileggevo proprio cinque minuti fa il programma del sindaco presentato ma l'ho detto anche ieri durante il consiglio comunale sfido chiunque a vedere se è stato rispettato solo un punto parliamo del turismo se benissimo quanto ci tengo e non si può assistere alla allo scempio che avviene dentro la città banchi bancarelle di abusivi nelle zone più affascinanti della città parlo dell'abusivismo commerciale non si può fare turismo con le blatte con i topi che invadono il lungomare più volte insieme ai colleghi consiglieri che devo dire stiamo lavorando in sintonia per portare in consiglio delle proposte però che non vengono solamente attuate quindi a questo punto per non parlare poi del progetto dell'isola amministrativa che è partito otto anni fa se ben vi ricordate un progetto che sta in area vasta un progetto che nella vecchia giunta di vendola fu approvato e che ancora è tutto fermo zaccheo la vostra è una bocciatura sonora dell'amministrazione comunale in carica e della giunta stefano ma io voglio parlare della di politica voglio parlare che noi nel 2012 abbiamo sottoscritto con il sindaco stefano un programma e soprattutto eravamo inteso lavorare diversamente rispetto ai cinque anni precedenti aveva il sindaco promesso di lavorare in accordo con i partiti noi come come movimento ricordiamo che siamo stati Puglia per vendola e psi abbiamo atteso un anno per avere un assessorato abbiamo fatto 18 mesi di attività amministrativa che è abbastanza palese e dimostrata dagli atti come abbiamo lavorato all'interno della maggioranza per poi essere messi da parte ma non dal punto di vista personale come partito in assoluto e non aver avuto nessuna possibilità di dialogare con il sindaco sulle prospettive future abbiamo però mantenuto fede a quell'impegno politico della dell'elezione del 2012 rimanendo lì in maggioranza aspettando se effettivamente come era stato detto dove esserci un rimpasto una giunta di alto profilo cosa che poi non è per nulla avvenuta e noi abbiamo fatto una abbiamo atteso in vano un cambiamento questo cambiamento non c'è stato e molto ovviamente può capitale che chi sta nella torre del davorio non si rende di conto di quello che accade all'esterno si terrà venerdì prossimo a mezzogiorno presso la presidenza della regione puglia a bari su iniziativa del capogruppo della pd alla regione puglia michele mazzarano una riunione per discutere la questione del depuratore consortile di manduria da vetrana alla quale prenderanno parte il presidente della regione puglia michele emiliano giovanni giannini assessore alle infrastrutture i consiglieri regionali della provincia di taranto e tecnici dell'acquedotto pugliese la riunione rende concreta ed operativa l'idea del patto per taranto lanciata dopo le elezioni regionali proprio dal consigliere mazzarano nello spirito di collaborazione istituzionale che deve riguardare alcune grandi emergenze la cui soluzione può vedere impegnata all'unisono l'intera compagine consigliare ionica il prossimo 7 settembre l'attuale questore di taranto enzo mangini assume il prestigioso incarico di questore di verona oggi il commiato attraverso la stampa alla città sentite pronto ad assumere il prestigioso incarico di questore a verona dal prossimo 7 settembre il dottore enzo mangini questore di taranto dal 2010 ad oggi ha salutato la città di taranto non senza un pizzico di malinconia mangini ha tracciato il bilancio dei cinque anni alla guida della questura di taranto anni difficilissimi nel corso dei quali esplosa la vicenda immigrazione e su tutte la vertenza ilva allora dal punto di vista personale la lascio con un pizzico di malinconia perché è stato un periodo un quinquennio molto intenso lascio con malinconia anche perché ho intessuto rapporti professionali e personali di grande rilievo di grande intensità la lascio anche con sapendo di aver fatto il mio dovere i risultati sono stati soddisfacenti mai mai in grado di soddisfare il desiderio di conseguire obiettivi più elevati ma consapevolmente adatti alle risorse che in questo momento sono disponibili in tutto questo mi è stato di grande aiuto il rapporto stretto con i comandanti delle altre forze di polizia il colonnello Venenesi di Marco, il colonnello Salvatore Paiano e gli altri responsabili l'amicizia anche con il signor procuratore sotto il coordinamento del signor prefetto è stato un periodo bello in cui i rapporti personali hanno coinciso perfettamente con i doveri professionali e quindi sono soddisfatto e lascio con questi sentimenti questa terra Cosa augura questa terra, questa popolazione? Io auguro che si torni a una maggiore coesione sociale perché recenti episodi, recenti fatti, recenti eventi in cui probabilmente questa provincia si è misurata con situazioni di rilievo nazionale che vanno al di là, problemi dell'ambiente, del lavoro situazioni difficili che non possono trovare solo in questa terra le soluzioni però è importante che si arrivi a un equilibrio, un nuovo equilibrio magari questa è una terra che è stata sfortunata, creduto in un futuro industriale senza probabilmente rendersi conto di quelle che sarebbero state le conseguenze adesso ci troviamo a gestire questa fase di transizione non sarà facile, bisogna raggiungere gli equilibri sta alla realtà locale, alle forze sociali locali, alle forze politiche raggiungere un equilibrio senza il quale però non ci può essere un vero progresso per la società Cronaca Nera e i carabinieri della compagnia di Castellaneta nel corso di mirati servizi volti a prevenire e reprimere reati nonché a contrastare la criminalità in genere hanno denunciato in stato di libertà un sessantenne residente nel comune di La Terza resosi responsabile del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi e munizioni presso l'abitazione della sessantenne imprenditore incensurato del posto indicato proprio come persona in possesso di armi giunti presso l'abitazione dell'Aertino questi ha consegnato spontaneamente due fucili un calibro 12 e un calibro 16 quest'ultimo privo di marca e matricola e complessive 57 cartucce per fucile le armi così come riferito dall'uomo erano appartenute in vita al defunto padre dunque sono state sequestrate e l'uomo è stato denunciato i carabinieri della compagnia di Martina Franca hanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto un 31enne del posto di nazionalità rumena l'uomo era stato notato a girarsi con fare sospetto nei pressi del palazzo dove abita un'anziana signora da un giovane che in quel momento era affacciato al balcone insospettito da quegli strani movimenti il giovane non lo ha perso di vista riuscendo così ad accorgersi che il 31enne dopo essersi arrampicato lungo una grondaia aveva raggiunto il balcone dell'abitazione della donna dunque il ragazzo ha allertato il 112 due equipaggi dei carabinieri giunti sul posto hanno bloccato il 31enne mentre ripercorreva all'inverso la grondaia nel vano tentativo di scendere e poi fuggire e ora parliamo di ambiente Taranto ospiterà nelle prossime settimane un importante convegno nazionale sul tema organizzato dalla conferenza episcopale italiana si celebra oggi primo giorno di settembre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato sul tema un umano rinnovato per abitare la terra da anni la conferenza episcopale italiana ha proposto questo appuntamento come occasione di preghiera e di riflessione sulla custodia del mondo nel quale il Signore ci ha dato di vivere Papa Francesco ha voluto istituire questa giornata a livello mondiale lo scorso 6 agosto lo sfondo su cui si muove una nuova presa in carico della cura del creato e il documento che il Pontefice ha voluto donare alla Chiesa e al mondo l'enciclica Laudato Si che con audacia e chiarezza propone ai credenti e non solo di operare una conversione ecologica che attinge i suoi fondamenti dal ricco patrimonio spirituale dove si intende una spiritualità non digiunta dal proprio corpo né tantomeno dal mondo in cui si trova a vivere quest'anno a dare un particolare significato alla giornata per la custodia del creato vengono a convergere tanti elementi a partire dall'enciclica Laudato Si che Papa Francesco ha dedicato alla questione ambientale assume poi un forte rilievo il quinto convegno ecclesiale nazionale così come il Giubileo della Misericordia che si aprirà il prossimo 8 dicembre fin dalla pubblicazione dell'enciclica ha auspicato che Taranto, dice l'Arcivescovo ne diventasse un laboratorio privilegiato e permanente per questo motivo sono felice per un tema così attuale di indicare il capoluogo ionico come sede delle celebrazioni nazionali per questa giornata a Taranto infatti si terrà il convegno nazionale il 19 settembre a cura della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace viviamo in un tempo di chiara Papa Francesco in cui tutti i cristiani affrontano identiche ed importanti sfide alle quali per risultare più credibili ed efficaci dobbiamo dare risposte comuni dobbiamo lavorare con convinzione perché l'invito del Papa non cade in ascoltato conclude l'Arcivescovo Filippo Santoro oggi le lavoratrici 91 delle pulizie ausiliariato degli asili al comune di Taranto hanno firmato il nuovo contratto e ripreso il lavoro ma nonostante questa volta il capitolato d'appalto indichi chiaramente le tante mansioni di ausiliariato oltre quelle di pulizia che le lavoratrici devono svolgere permane, dice lo Sleikobas, la vergogna di un orario di lavoro di 11 ore settimanali e un livello di inquadramento al di sotto delle mansioni effettivamente svolte vale a dire permane da parte del comune della nuova ditta vincitrice dell'appalto o la servizio integrati SRL una violazione anche dei minimi contrattuali per questo motivo questa mattina lo Sleikobas con un'ampia delegazione di lavoratrici ha fatto un incontro con l'assessore alla pubblica istruzione Bozza i dirigenti del settore a cui è seguito un incontro tra comune e ditta in mancanza di risposte nel mese di ottobre lo Sleikobas proclamerà due giorni di fermata negli asilo e ora la cronaca nazionale benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news migranti, Merkel, UE sia solidale nell'accoglienza Gabrielli, in casi gravi posso sciogliere il comune Ucraina, Granata fuori dal Parlamento Angela Merkel chiede ai paesi dell'Unione Europea di fare di più per condividere l'onere dell'accoglienza dei migranti l'Europa nel suo insieme deve muoversi ha detto la cancelliera tedesca ed i suoi stati devono condividere la responsabilità sui richiedenti asilo se non riusciremo a ottenere un'equa distribuzione dei rifugiati allora la rimessa in discussione di Schengen sarà in agenda per molti a Ammonito il prefetto di Roma può sciogliere il comune per gravi e reiterate violazioni della legge lo afferma il prefetto della capitale Franco Gabrielli Gabrielli aggiunge anche che a Roma c'è un solo sindaco e non mi candiderò né per il Campidoglio né per la presidenza della regione un membro della Guardia Nazionale è stato ucciso e circa 100 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una granata fuori dal Parlamento ucraino a Kiev dove i deputati votavano il via libera ad un progetto di legge per concedere uno status speciale alle regioni orientali filorusse l'esplosione è avvenuta mentre erano già in corso scontri tra la polizia e i dimostranti almeno 30 le persone arrestate il Tempio di Bella Palmira in Siria è ancora in piedi nonostante l'attacco dei jihadisti del sedicente stato islamico che hanno tentato di distruggerlo a riferirlo è il direttore delle antichità siriane Maamun Abdel Karim Abdel Karim ha confermato che c'è stata una forte esplosione nell'area ma ha precisato che la struttura del Tempio, le colonne e l'altare sono intatti Sabato nella Sala Volpi della Mostra del Cinema di Venezia sarà proiettata in Prima Mondiale la copia restaurata di Amarcord capolavoro di Federico Fellini Il film, tornato all'antico splendore verrà proiettato anche a Rimini nei giorni successivi al debutto veneziano un'operazione che per mesi ha coinvolto istituzioni e professionisti tutti impegnati nel restauro del capolavoro che 40 anni fa valse a Fellini il suo quarto Oscar Si fa fatica a vedere un futuro per la nazionale a dirlo è l'ex CT dell'Italia Cesare Prandelli I club hanno troppo potere, hanno interessi esclusivamente economici, non sportivi e quindi io non sono molto ottimista Il cammino e la programmazione, aggiunge, non c'è non c'è la voglia di risanare questo calcio che è malato Ed è davvero tutto per la cronaca del nostro giornale grazie per averci seguito alla parte tecnica Gianfranco Curto e Cristian Palazzo ci rivediamo tra pochi minuti con lo sport grazie per averci seguito alla prossima